Ciao a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio dedicato alla meravigliosa community italiana di eFootball. È passato un po' di tempo effettivamente dall'ultimo episodio, non toccheremo quelle vette, ve lo dico subito perché credo che veramente nell'ultimo si sia toccato l'apice, arrivando a un livello irripetibile nella storia, però anche nell'episodio di quest'oggi c'è qualcosa che mi riguarda particolarmente. Bando alle ciance, andiamo subito a vedere i commentini. E partiamo con un classico. Fa schifo, cancellato quattro mesi fa, Konati non pensa ai suoi clienti assolutamente, quello che invece comunque prova a fare, quantomeno è, parliamoci chiaro. Però con tutto ciò vedi qualche personaggio qua dentro, soprattutto uno, che ancora difende una spada tratta sto giochino. A Konati le va bene che vive di rendita per il passato. Stop. Tralasciando una scelta di lessico abbastanza particolare, con un'evidente confusione tra soggetti al singolare e al plurale, Tralasciando anche l'opinione e l'ennesimo confronto impietoso, il mio modo di vedere con lei è di questo commento c'è una cosa che mi salta subito all'occhio. Sapete che questi commenti vengono presi per lo più dalle pagine Facebook, quelle due o tre di numero alle quali io sono iscritto, che parlano appunto di Football 2024. Ecco, quello che mi ha colpito in questo caso è cancellato quattro mesi fa. Bellissimo, perfetto. Che cavolo ci stai a fare ancora in questa community allora? E visto che abbiamo citato la EA per rimanere a tema, sempre più frenetico, da schizzati, modello FIFA, che brutta fine. È troppo veloce, sembra FIFA ora. Adesso, al di là di quello che effettivamente può essere o meno la velocità del gioco, io ogni volta che leggo questo tipo di commenti, invito i ragazzuoli in questione ad aprire YouTube, andare a cercare qualche pagina di retro gaming, e andare a vedere come giravano i vecchi PES, quelli della prima PlayStation o della PlayStation 2, quelli che oggi, se senti, i palati raffinati erano le vere simulazioni calcistiche, i bei giochi di una volta, dei capolavori assoluti. Ragazzi, il PES che andava più piano andava al triplo della velocità rispetto a The Football 2024, Football 2023, soprattutto The Football 2022. Football 2022 era un gioco alla moviola, praticamente. Al di là di questo, chiudendo questa piccola parentesi, il problema di FIFA, l'ho detto, l'ho ripetuto e lo ripeterò a vita, il problema di FIFA non è la velocità. Abbiamo avuto dei giochi, delle simulazioni calcistiche molto più belle di FIFA, i già citati PES del passato, che andavano molto più veloci di FIFA. Il problema di FIFA, per il quale io personalmente, mi rifiuto di considerare FIFA una simulazione calcistica, per me FIFA ha più cose in comune con Final Fantasy che con il football. Dicevo, il motivo principale per il quale FIFA, secondo me, non è una simulazione calcistica e non andrebbe paragonato con il football, e con FIFA tu puoi virtualmente prendere palla a metà campo, col fenomeno di turno, fare quattro veroniche, dodici doppi passi, alzarti la palla con una bicicletta, effettuare il colpo dello scorpione al volo da fuori area, e metterla precisamente sotto l'incrocio opposto, semplicemente premendo dei tasti a caso. Quello è il problema principale di FIFA. Oltre al fatto che in FIFA i portieri praticamente non esistono, cioè tu puoi avere in porta Yajin, o avere in porta uno sgabello, che sostanzialmente è la stessa identica cosa. I portieri hanno quattro animazioni in croce, e hanno praticamente la reattività di un camoscio zoppo. Questi sono i problemi di FIFA. Il football ha i suoi problemi, ne ha molti, ne ha diversi, ne ha di evidenti, però se non altro il football tra i due titoli è l'unico che ancora prova a fare la simulazione calcistica. Poi, in qualche cosa ci riesce, in qualche cosa ci riesce meno, in qualche cosa non ci riesce proprio. Ma almeno ci prova. FIFA purtroppo da diversi anni a questa parte non ci prova nemmeno più. E questa è probabilmente la perla di giornata. Ti diverte? Perché Ronaldo in formazione era sulla sinistra, ma in campo era sulla destra? Ti ho segnalato per hacking, infatti. Giustamente, il ragazzo dice cosa? Ma conosci le tattiche secondarie? Ecco, non so se vi ricordate, ma qualche tempo fa avevo detto appunto che uno dei problemi della community italiana era la segnalazione ad Minchiam. Pensate a questo povero cristiano che si è beccato una segnalazione per Hachig per aver commesso il peccato capitale di utilizzare le tattiche secondarie. Io continuo a ripetere che non è giusto far giocare gli sciopponi con gli altri che va in coppia con chi scioppa in maniera dissennata dovrebbe giocare nel campionato sciopponi altrimenti è tutto falsato. Che è un po' come dire che la Premier League è falsata perché il Manchester City può giocare, che ne so, col Brighton. Che cavolo vuol dire? Ora, per carità, io capisco che purtroppo ormai il concetto di sono troppo svantaggiato perché il mio avversario ha la squadra fortissima e quindi vince a prescindere è talmente tanto radicato all'interno della community della mente dei giocatori di football che credo che sia impossibile veramente convincerli convincere del contrario ma non capisco come la soluzione tra tante soluzioni che ci possono essere in questo gioco non capisco come la soluzione possa essere preso possa essere prendere quel gruppo di persone che permette anche a chi non investe mezzo centesimo di giocare gratuitamente e rinchiuderli nelle riserve tipo gli indiani d'America non riesco veramente a capire come questa possa essere la soluzione ci sono delle soluzioni effettivamente basterebbe inserire nel matchmaking che ne so nell'algoritmo che gestisce il matchmaking un qualcosa che valuti la forza della formazione del giocatore e dia la precedenza come matchmaking ripeto ad accoppiarlo assieme ad altri giocatori che hanno una formazione più o meno dello stesso valore di forza però chiariamoci una cosa maggior parte chiariamoci chiariamo una cosa la maggior parte di chi shoppa all'interno di questo gioco al di là di poche persone che magari shoppano per prendere solo ed esclusivamente i giocatori alle quali sono più affezionati a livello emotivo tipo sottoscritto su uno dei miei due account la maggior parte però shoppa per cosa? per avere dei giocatori più forti rispetto alla norma e lo fa perché? perché in questo modo può affrontare delle squadre che non avendo quei giocatori risultano più deboli se tu li prendi e li metti in un campionato a sé stante tutti questi giocatori che sono la maggior parte tutti questi player perderanno non poco la voglia di shoppare perché uno a questo punto penserà vabbè allora mi faccio una formazione free to play e giocherò insieme a quelli che per la maggior parte sono pippe in realtà non c'è una correlazione dalle due cose però il pensiero del giocatore medio è effettivamente è effettivamente questo per Konami si tramuterebbe in una perdita economica non da poco siccome ok bisogna ragionare nell'ottica del giocatore ma bisognerebbe anche imparare a ragionare secondo me un pochettino nell'ottica della società non è che ci vuole molto a capire che una soluzione del genere potrebbe essere abbastanza fallimentare per la Konami tuttavia in risposta ai quei commenti ce n'è uno ancora più assurdo ti faccio un esempio pratico mettiamo che tu abbia un amico che ti vuole offrire una cena che però ti dice tu puoi mangiare solo pizza quanta ne vuoi e bere coca cola tu ovviamente rispondi ok una cena offerta è sempre una cena offerta poi la pizza mica fa schifo poi al momento di mangiare vedi che mentre tu ti devi accontentare della pizza lui mangia la costa e beve champagne sapendo che la cena te la sta offrendo lui andresti mai a dirgli ma perché non te ne vai a mangiare in un altro ristorante ora in realtà il senso di fondo non sarebbe sbagliatissimo cioè nel senso è quello che dicevo io prima cioè nel senso sapendo che comunque chi shoppa in questo gioco permette a te di giocare da free to play perché devi andargli a rompere gli zebedei e cioè manca però un tassello che è un attimino fondamentale che quella che si viene descritta qua è una banalissima cena tra amici qua invece siamo di fronte a una competizione quindi il discorso potrebbe andare effettivamente bene se si parlasse di una gara culinaria una gara a chi mangia di più allora la cosa avrebbe effettivamente avuto un attimino senso la cosa più ridico in realtà di questo commento è che mannaggia i miei antenati l'ho scritto io e non so nemmeno io di che sostanza ero fatto quando ho scritto una boiata del genere siccome questa serie non guarda in faccia a nessuno se uno scrive una boiata è giusto che venga spiattellata in faccia a tutti anche se dalla fattispecie si tratta del sottoscritto scherzi a parte ragazzi questo messaggio l'ho scritto tipo alle 7 del mattino dopo una notte dove avrò dormito siano forse due ore perché era la settimana che mia moglie aveva il turno alle 5 quindi sveglia alle 4 in più avevo la gatta che era in calore e non so quanti di voi hanno una gatta in casa non sterilizzata ma la mia gatta quando è in calore è qualcosa tipo datemi un leone che me lo trombo seduta a stante sul divano di casa è una roba del genere più o meno per tutta la notte lei prendeva l'altro gatto maschio e diceva devi fare il tuo dovere lui non posso sono castrato ecco immaginatevi una notte del genere la mattina dopo partorite partorite delle cagate come questa fanno solo schifo Konami dovrebbe chiudere la sezione giochi calcistici hanno fatto dei capolavori adesso c'è sto schifo di gioco per non parlare che se non vecchio in italiano ti toccano partite con lag assurdi la sezione giochi calcistici che la Konami dovrebbe chiudere per questo ragazzo nell'anno scorso solo per la versione mobile di eFootball è stata tra le 19 app al mondo a guadagnare più di un miliardo di dollari un miliardo non un milione un miliardo di dollari con un gioco free to play solo la versione mobile escludendo quelle console dovrebbero chiudere la sezione giochi calcistici un miliardo di introiti ma ci hai speso qualcosa se no è inutile è un free to play se spendi hai un occhio di riguardo altrimenti ti fanno perdere perché solo così loro pensano di spennarci io soldi non glieli do fossi matto tanto poi ti ritrovi squadre full epic costate un patrimonio contro le quali non puoi fare nulla che va in coppia con eFootball è il gioco di simulazione calcistica pay to win più ridicolo dell'ultimo decennio che per me in realtà l'opinione di ognuno di noi è assolutamente rispettabile e andrebbe anche bene se non fosse che il giorno prima leggi commenti del genere il giorno dopo apri la stessa pagina e leggi no si chiama script le squadre di basso valore ricevono un aiuto dal gioco mentre le full legend hanno due avversari il giocatore e appunto lo script da battere ragazzi a me va bene tutto però mettetevi un attimino meno d'accordo tra di voi c'è un motivo per il quale io ho definito e continuo a definire la community italiana dei football come la più bipolare del mondo perché nel caso non me ne foste resi conto queste due cose si escludono a vicenda una di fatto annulla quell'altra non possono coesistere tutte e due allo stesso tempo o il gioco favorisce chi shoppa alle squadre più leppiche o il gioco favorisce chi gioca con le squadre di basso di basso di basso rango di basso valore perché deve appiattire le differenze entrambe le cose no a me andrebbe bene credere anche a una o l'altra per carità per me personalmente sono delle cagate entrambi però potrei anche credere all'una o all'altra però mettetevi intanto d'accordo tra di voi ok e chiudiamo con non c'è un allenatore migliore in assoluto prova a capire in base a come giochi tu qual è lo stile dove ti senti più a tuo agio non credere che i migliori sono solo quelli con uno stile 85 ci sono allenatori con ponteggi più bassi che fanno giocare i calciatori meglio di quelli sulla carta top ora io prima quando ho scritto quel commento appunto ho detto che non mi ricordo di che sostanze ero fatto in quel momento ma il ragazzo mi sa che stava messo molto 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 peggio ma veramente tanto peggio peggio di me premettendo che questo commento è stato screenshotato prima che uscissero i nuovi giocatori con valori a 88 quindi prendiamo come esempio quelli che c'erano fino a un paio a un paio di settimane fa l'allenatore non incide minimamente su come i giocatori giocano in campo l'allenatore più è alto il valore di un allenatore su uno stile intesa e più alto saranno saranno i bonus che questi giocatori ottengono da quello stile intesa è l'esatto contrario di quello che dice questo ragazzo i giocatori con un overhaul più alto nello stile intesa specifico che tu stai utilizzando sono quelli che ti fanno giocare meglio la squadra perché sono quelli che potenziano di più i tuoi giocatori io non so in base a che cosa lui abbia potuto dire che ci sono allenatori con punteggi più bassi che fanno giocare i calciatori meglio di quelli sulla carta top a meno che tu non scelga un allenatore che non ci azzecca veramente nulla col tuo stile intesa questa affermazione è assolutissimamente impossibile un giocatore non gioca meglio o peggio a parità di stile intesa a seconda dell'allenatore che è stato selezionato al massimo avrà le sue caratteristiche bustate di più o di meno ripeto sempre a parità di stile intesa in base al valore che l'allenatore ha su quello stile intesa ma per il resto il tipo di gioco dei giocatori in campo è identico con l'uno o con l'altro da dove veramente possa arrivare questa affermazione io non ne ho la minima idea e con questa perla direi che comunque possiamo chiudere questo video che è andato avanti anche più a lungo di quello che io pensavo ragazzi come sempre ve lo ricordo questi video hanno uno scopo solo ed esclusivamente ironico si fa per dire ci si prende amabilmente per i fondelli come si farebbe tra amici in un pub davanti a un bel boccale di birra come vedete tra i vari messaggi che ho postato questa settimana ce n'è uno anche mio proprio perché quando si sparano delle boiate bisogna anche essere abbastanza onesti da ammetterlo e abbastanza autoironici da poterci ridere sopra per oggi è tutto pace belli alla prossima grazie a tutti